buongiorno e benvenuti alla fixit informatica oggi vi voglio parlare della garanzia sulle batterie parliamo della garanzia sulle batterie dei computer e dei telefonini vi racconto prima l'episodio al quale mi sto riferendo l'episodio che ha fatto sì che volessi fare questo video abbiamo sostituito ad ottobre di dello scorso anno una batteria ad uno smartphone a un htc uplay quando è arrivato da noi il telefonino aveva già tre anni e la batteria durava poco il cliente ha voluto sostituire la batteria noi come sempre come facciamo normalmente sostituiamo le batterie solo con batterie originali perché noi facciamo solo ricambi originali e dopo quasi sei mesi il cliente torna da noi lamentando il fatto che il telefonino si spegneva durante l'uso perché la batteria durava poco abbiamo chiesto di lasciarcelo in visione è effettivamente abbiamo notato che mettendo in carica il telefonino la batteria arrivava al cento per cento dopo poco la batteria la percentuale della batteria iniziava ad arrivare al 70 per cento 30 per cento 0 per cento il telefonino si spegneva così subito di colpo il cliente e ha affermato di voler diritto alla garanzia che per legge dovrebbe essere di due anni quindi ci chiedeva la sostituzione in garanzia diceva io ho fatto un intervento da voi per la sostituzione della garanzia per la sostituzione della batteria e ho una garanzia sulla lavorazione di due anni noi abbiamo deciso visto che su quel modello lì non c'è tanto smercio abbiamo deciso comunque di non procedere alla sostituzione in garanzia abbiamo deciso di fare un rimborso nel frattempo abbiamo fatto un po di indagini e vogliamo condividere con voi queste questi risultati allora intanto vi voglio spiegare una cosa importante e sulle batterie che si usano attualmente sui telefonini e sui computer allora la tecnologia che viene utilizzata e sono gli ioni di litio in pratica noi abbiamo sui nostri telefonini e sui computer delle batterie agli ioni di litio questo cosa comporta comporta che e le batterie hanno un consumo in base ai numeri di cicli di ricarica che vengono effettuati però hanno anche un consumo legato al tempo quindi in pratica vuol dire che le batterie sono tarate anche per durare un tot di anni vi fate un esempio voi acquistato una batteria gli ioni di litio nuova la tenete in un cassetto per dieci anni senza montarla mai sul dispositivo dopo dieci anni comunque la batteria non avrà le stesse caratteristiche tecniche di come quando è stata acquistata avrà perso sicuramente capacità allora quindi le batterie agli ioni di litio funzionano così e quanto bisogna dare allora quanto danno i produttori delle dei principali dispositivi elettronici quanto danno di durata della garanzia sulle batterie danno due anni oppure no mi sono fatto questa domanda perché effettivamente era la prima volta che mi capitava perché inconsciamente noi eravamo convinti che la durata della garanzia delle batterie era di sei mesi perché essendo appunto materiali di consumo e un po come le gomme di una macchina per esempio allora se io vado se io vado dal gommista mi faccio cambiare le gomme e nel frattempo faccio il giro del mondo in una settimana e poi torno dal non posso tornare dal gommista per dire guarda le ho comprate una settimana fa perché non funziona così perché sono appunto materiali di consumo più volte tu carichi il telefonino e più si scarica quindi per convenzione noi eravamo convinti che la batteria e che la durata della garanzia delle batterie era di sei mesi perché sei mesi è lo stesso numero di mesi che danno a noi come ditta di partita iva sull'acquisto delle batterie quindi noi inconsciamente abbiamo reputato dare e di dare lo stesso tempo di dei sei mesi di garanzia al cliente poi realtà abbiamo fatto un po di ricerche volevo prima dirvi quanto danno le le case produttrici di garanzia sul sul sui telefonini e sui computer facendo questa ricerca abbiamo visto che per esempio apple da sugli iphone e sugli ipad 12 mesi di garanzia e parliamo degli smartphone samsung sugli smartphone e sui tablet da invece su sui dispositivi che hanno una batteria rimovibile 12 mesi su una batteria invece integrata 24 mesi huawei sempre sugli smartphone e tablet da sei mesi solamente sulle batterie rimovibili e 24 mesi sulle batterie integrate stoni da sei mesi xiaomi da sei mesi come huawei sulle batterie rimovibili e invece solo 12 mesi sulle batterie integrate abbiamo cercato sui sfitti delle delle altre produttori htc lg wiko oneplus e oppo ma le informazioni non sono state trovate facilmente sul loro sito internet probabilmente bisognerebbe contattarli per avere questo tipo di informazione comunque diciamo che in linea di massima ognuno fa un po quello che vuole quindi si va da un sei mesi di huawei e xiaomi fino anche a 12 mesi o 24 mesi per samsung fanno una distinzione tra le batterie rimovibili e le batterie integrate questo perché perché ovviamente la batteria rimovibile la può cambiare direttamente il cliente la batteria integrata facendo parte del dispositivo intero e fa parte della garanzia del del prodotto ma perché semplicemente non si vuole che qualcuno di non autorizzato possa aprire il dispositivo per cambiare la batteria e quindi invalidare direttamente il la garanzia sul prodotto quindi a mio avviso danno queste garanzie maggiori sui dispositivi che vanno aperti semplicemente per questo motivo poi invece per quanto riguarda i computer i laptop allora abbiamo la apple con il macbook che da sempre 12 mesi e asus da 12 mesi del da 12 mesi lenovo 12 mesi toshiba 12 mesi hp di dice 12 mesi per le batterie rimovibili e fino a tre anni per le batterie integrate acer invece non abbiamo trovato informazioni sul loro sito internet non le trovate facilmente quindi probabilmente dovremmo contattarli ma visto che sono tutti danno 12 mesi ipotizzo che anche acer possa dare 12 mesi quindi c'è anche una piccola differenza sul tipo di batteria se una batteria di un computer e se una batteria di un di un telefonino allora quindi secondo voi quindi stiamo parlando di garanzie di batterie su dispositivi nuovi che sono stati fabbricati con quella batteria e che quindi quella batteria è tarata per quel dispositivo cosa succede invece se per esempio un telefonino ha degli aggiornamenti e quindi alle app più pesanti e la batteria magari viene aggiornata anche android magari la batteria non dura più come prima perché era calibrata per un consumo in determinato modo adesso essendo più pesante il telefonino la batteria giustamente avrà una durata inferiore inoltre le batterie vengono garantite dai produttori non per quanto riguarda diciamo la normale usura ma vengono garantite da malfunzionamenti quindi per esempio se il telefonino si riavvia faccio esempi che mi vengono in mente il telefonino si riavvia o la batteria magari si gonfia però nessuno parla del normale della normale usura perché la batteria ecco un altro esempio che posso fare un po come i toner quindi se io ho un toner di una stampante non posso avere una garanzia limitata nel tempo perché più utilizzo questo questo tono e quindi più stampa e faccio più questo toner finirà stessa cosa la batteria quindi più utilizzerò il dispositivo più volte utilizzerò il dispositivo è più in fretta la batteria e si deteriorerà quindi durerà di meno quindi la garanzia non copre come dicevo prima la durata in sé per sé ma copre solo malfunzionamenti quindi la garanzia legale e copre solo i difetti e non copre per esempio la normale usura non copre un usalo un uso anomalo o un uso improprio per esempio se il telefonino cade non la batteria si danneggia per questo motivo non viene coperto non è un danno coperto da garanzia e oppure un'altra cosa importante le batterie e soffrono tanto se vengono messe in condizioni atmosferiche estreme quindi troppo freddo troppo caldo quindi in questi casi qui pure la batteria si deteriora prima un altro motivo per cui le batterie si deteriorano prima un altro motivo anche l'utilizzo di caricatori non originali quindi caricatori compatibili di bassa qualità e quindi secondo me come dice il cliente dare due anni di garanzia mi sembra un po esagerato e dare un anno di garanzia non saprei dipende c'è un anno si da su un telefonino o su un computer nuovo su un computer su un computer già usurato su un telefonino già usurato e non so fino a che punto sarebbe corretto dare un anno di garanzia può darsi che forse il giusto compromesso sia siano sei mesi perché la legge non parla di nuovo è usato non so non so volevo farvi questo ragionamento qui poi cosa ne pensate quanto dovremmo dare noi riparatori e di garanzia su un cambio batteria parliamo sempre di una batteria originale dovremmo dare sei mesi dovremmo dare un anno scrivetelo sotto nei commenti grazie arrivederci